Ciao a tutti ieri e le verine, oggi nuova location, praticamente oggi non uscirà una nuova puntata di Mi Trasformo perché devo dirvi una cosa che già ho svelato sui miei profili Facebook ed Instagram quindi se non mi seguite lì, vi lascio sempre qua sotto all'info box tutti i link dove potete trovarmi niente, praticamente avevo detto che il prossimo mese, ovvero a giugno, ancora non ho una data certa praticamente partirò per circa 3 mesi, fino a settembre e anche lì non ho una data certa e niente, volevo dirvelo perché comunque in questo luogo non avrò internet, avrò solo internet e del cellulare io spero comunque che riuscirò a pubblicarvi qualche video nuovo ma come vi posso dire comunque sui social sarò molto attivo, quindi per questo vi dirò di seguirvi di più lì perché comunque sarò più attivo specialmente sul mio profilo Facebook e su Instagram sono più attivo infatti specialmente su Instagram pubblico spesso delle stories quindi sono molto molto più attivo lì quindi tramite i social mi potrete sentire se volete anche scrivermi però su YouTube non sono certo se potrò riuscire a caricarvi qualche video perché per l'appunto la connessione comunque è quella che è, quella del cellulare quindi non è potente come magari questa linea che ho qua di casa che in due secondi prendo e monto subito un video comunque io proverò in caso vi farò sapere nelle mie stories comunque niente comunque per i prossimi giorni avrò ancora dei video da farvi perché per l'appunto non ci sta ancora una data certa comunque sarà penso intorno al 20 giugno quindi verso metà fine giugno quindi niente ancora sarò qua con voi ma volevo dirvelo perché comunque dove sto andando si può andare tranquillamente perché sapete si può viaggiare nella propria regione poi fortunatamente dove stiamo noi i casi non sono aumentati sono sempre gli stessi quindi siamo a posto diciamo quindi contento e felice di questa ripresa e niente quindi volevo dirvelo perché comunque ci tengo adesso che stiamo aumentando di numero con alcuni di voi mi sento assiduamente comunque volevo dirvi tranquilli perché anche se non riuscirò a pubblicare qualche video su YouTube ma io spero di sì perché comunque là in teoria la linea prende ma devo vedere un po' come fare perché alla fine ho soltanto 10 giga nel telefono spero di pubblicarvi qualche video anche quando sarò in questo luogo comunque vi farò sapere magari nell'ultimo video che vi caricherò da qui quando partirò dove andrò eccetera eccetera quindi niente grazie a tutti per i nuovi iscritti io vi mando un mega bacio vi lascio qua sotto tutti i link dove potete trovarmi la mia lista Amazon e niente così se non mi volete diciamo se volete sentirmi avete i miei link dove potete trovarmi e sarò molto più attivo perché comunque sul cellulare rispondo su YouTube non so ancora per l'appunto se riuscirò a pubblicare un video quindi niente io vi mando un mega bacio buona domenica e iscrivetevi sui miei social e niente ciao